Tamir Ersko, possiamo dire esordio migliore non poteva essersi, oggi è alla grande. Molto contento che abbiamo vinto. La tua prestazione? Anche molto contento, è la prima volta in A1 e mi piace fare volo e gioco. Molto bene anche con l'italiano, sei qui da pochissimo, l'hai già imparato bene. Io capisco, ma solo se tu parli lentamente, piano piano.